No, non ti ho ripreso, devi rifarlo, scusa Genico. Vai! Basta, basta Mauro! Non sai a cosa può andare in fondo, nonno, ma dopo non sai. Adivinia! Ti fa troppe cose qua dentro! Nonno, quello me lo è in giro, non lo so, la gallina è da aprire, vado un po' a spigliarlo. Avanti, maestro? Nonna, non c'è niente in testa questa pasta. Questa, gallina, ma questa dove è una secola? Ehi, c'è la prima mamma, c'è la frutta e l'altra.